che ci ha abituato a seguire anche nel dettaglio con la categoria a piedi di uno promesso di signor uomini dove come abbiamo detto ci correranno ben 19 serie e avremo Mattia Di Nardi a prima coltiva, una serie di 16,91 in seconda Gabriele Masteine per l'Atletica Bellini, 16,50 di personale poi in terza per le giame gialle Marco Lorenti, 15,90 il suo personale Alessandro Galati per l'Atletica Futuro Roma che ha corso un 16,10 16,32 per Fabio Tardito, la storia 6,195 come Galati per l'Atletica Pisoglio Palabino, 16,32 di personale e poi in terza per l'Atletica Bellini con 16,50 in categoria a piedi Marco Ricci un altro giovane che si è distinto dall'ascolto nella categoria a piedi Campo Nazionale, Matteo Pedicini, Atletica Futura un 16,60 di personale in ottava Davide Girotti sia Mattia Le Simoni, 16,85 di bianche per gli a piedi in questa prima serie sul rettilineo principale un confronto con la realtà della categoria assolutamente che dovranno confrontarsi con la slegge del carico di Marco Marzolorenti Galati, Tardito e esperti velocisti e naturalmente con un'esame maggiore di questi giovani allievi al primo anno saremo a vedere tra poco la partenza sia sul rettilineo principale che sul rettilineo composto partita partita a serie e qui lo spalla spalla attenzione perché non deve essere proprio la terza corsia di Marco Lorenzo ve le diciamo di centesimi due centesimi al massimo differenza tra la terza e la quarta corsia quindi se ce ne abbiamo della di non promesso il senior il terzo trasfergato è proprio Tardito anche il cammino da Palatino con 16.20 secondo Marco Lorenzo e amme gialle 16.02 con lo stesso tempo ma vince per la differenza dei tilesimi Alessandro Calati Atletica Futura Ruffa 16.02 Gli a ieri dietro al podio grazie grazie profumo grazie